e benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video se sono xdroid e mi do il benvenuto a questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui su minecraft oggi ragazzi siamo qui per esplorare un dungeon sì ragazzi un bellissimo dungeon per quindi lasciate subito un bel like iscrivetevi al canale commentate iscrivetevi sto dicendo le stesse cose sto impazzendo raga comunque prima di iniziare però vi volevo dire una cosa mi sono fatto l'armatura in ferro tutto in ferro perché abbiamo trovato tanti ferro nell'episodio precedente per chi non l'avesse visto andatelo dopo aver visto questo video a ritrovarlo che abbiamo trovato piccolo spoiler abbiamo trovato diamanti fin da tanta roba niente raga ci vediamo nel video bella raga ok raga andiamo nel dungeon io non me lo ricordo tanto bene dov'era per quindi non lo so raga davvero non me lo ricordo più dov'era era qui i rati bocchi per caso forse era qui raga giù no ok raga allora facciamo così ci vediamo quando l'ho trovato ok raga non l'ho più trovato il dungeon ma siamo nella caverna raga perché vi avevamo promesso che ci ritornavamo siamo nella caverna in cui avevamo trovato i diamanti e raga non l'abbiamo notato qui l'oro raga e quindi iniziamo subito bene perché raga nell'episodio di ieri di prima anzi perché l'ho fatto prima non l'avevo assolutamente notato quindi iniziamo già bene con già 4 lucky ball ok 6 no 5 che cazzo 5 d'oro quindi ci sta non abbiamo preso tutto il ferro ero troppo emozionato abbiamo perso tanto cose mica una cosa mi hanno perso eravamo abbastanza emozionati ok raga per quindi questo video non è così male alla fine perché solo diciamo no no non la trovo adesso farà schifo tutta la vita cioè prendiamo gli stiosi non mi ricordo il nome appena due non saranno mai due per poi niente sono nove ok allora allora raga sento sento l'acqua per quindi esploriamo esploriamo raga perché no poi usiamo un altro piccone no ok com'è che sta il piccone ok così non vedo niente siamo già qui ok allora mangiamo qui avevamo trovato i diamanti qui dove ho rotto ah è vero non mi ricordavo più c'era l'acqua qui chissà dove porta raga e per quindi noi andiamo a vedere dove porta un'altra caverna un'altra caverna raga no ok raga scusate allora ho trovato altri altri altro ferro per quindi ok ora andiamo qui sapevo che c'era qualcosa ok togliamo tutta l'acqua porta davvero tanta cosa tante cose togliamo anche qua l'acqua prendiamo il ferro però raga io sinceramente ho tanta tanta paura però raga non so se no si però raga abbiamo l'armatore in ferro per quindi cioè dai allora altro ferro ce lo prendiamo sempre dico sempre se riusciamo magari ok ok tac tac ok 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 raga allora aspetta allora ok andiamo giù raga e vediamo c'è della ossidiana ok per quindi più giù di così non possiamo andare ritorniamo su che raga qui ci sono del carbone che non avevo notato quando andavo giù e abbiamo preso abbastanza materiali cioè qui sto dai perché materiali servono tantissimo non si è messo neanche male raga per quindi boh finiamo di prendere questi carboni carboni poi d'aliano è andato altrove facciamo prendiamo tutto qua e dopo andiamo su e ci salutiamo e metto tutto a posto metto tutto via allora quanto carbone c'è raga quanto allora ancora carbone ancora carbone ce l'hanno con sto carbone ok raga basta direi basta con il carbone abbiamo preso assai tanto ci facciamo boh allora ritorniamo su poi andiamo a far cuocere tutto il ferro sia il ferro sia l'oro che mi hanno trovato mi hanno trovato abbastanza materiali perché quindi boh e come ho detto prima farò se non sapete non non vi ricordate quale cosa forse l'avete se andate avanti farò creo creerò qualcosa allora prima in tutto però qui 5 e qui 14 ok mettiamo a posto un po' tutto direi basta solo questo raga ok si stava bloccando adesso si ragazzi ci prendiamo i diamantozzi andiamo qui oh si ragazzi e se l'abbiamo per quindi regà dopo anzi andiamo subito andiamo subito a prendere l'ossidiana ci vediamo lì aspettate ok ragazzi siamo qui dall'ossidiana aspetta prima però voglio vedere se c'è la lava speriamo di no ok non credo non ci dovrebbe essere ok ok dai forse nel prossimo cioè raga allora allora facciamo così 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 allora sempre così forse nel prossimo episodio saremo nel nether forse però cavolo ho portato i diamanti per quale motivo ok ho tappato qui ho tappato qui per quindi va bene ce lo prendiamo tranquillamente qui l'ho tappato non lo so a carica prendiamo l'ossidiana scusate allora ok fatto ciò devo fare così 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 per così prendere l'ossidiana senza far bruciarla senza farla bruciare dai porco ma vai allora abbiamo un problemino la lava è qui per quindi non lo so ok allora proviamo a fare così non c'è più la lava quanto quanto devo godere ok vediamo ora ora c'è per quindi allora andiamo qui ok prima che c'è la lava e muoio no no vediamo non ci dovrebbe essere ora ok mettila per quale cavolo motivo non ha messa lì ok l'ha messa ora oddio è difficile rica non è facile facciamo così quanto ci abbiamo 9 ci vediamo quando l'avrò preso abbastanza ok raga l'abbiamo presi 11 ma per il nether non credo che servano 11 credo che servano proprio 12 perché purtroppo alcuni sono stati bruciati e proprio non lo so raga proveremo proveremo non ve la dico tutta non so se nel prossimo episodio saremo nel nether oppure no adesso ritorniamo su che ci prendiamo ragazzuoli ci prendiamo la spada in diamanti anche quello che è soddisfazione grandiosa andiamo qui 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 ok boh purtroppo l'ho fatta bruciare ma perché non è facile allora andiamo a posare tutto quanto anche queste cose e anche questo episodio non è andata del tutto male allora facciamo così dopodiché spada in diamanti fatta anche questo allora mettiamoli via perché perché è davvero bello perché dobbiamo finire tutto eccolo dobbiamo finire le altre perché ho appena costruito questa non lo so eh vabbè niente ragazzi per questo video è tutto spolliciato commento iscrivete aspettate non ho preso questi però mi stavo proprio scorda stavo dicendo per questo video è tutto spolliciato commentato iscrivetevi perché no perché non ho ancora fatto prendiamo l'accialina ci prendiamo l'accialina raga finendo alla fine non mai questo video accialino acci l'accialina eccolo eccolo qui tac e basta abbiamo anche l'accialina per al massimo aprire il nether e niente ragazzi per questo video è tutto spolliciato commentato iscrivetevi al canale perché non l'ho ancora fatto e noi ci vediamo se al massimo non non riusciamo ci manca proprio un blocco ma perché sono andato in questa pagina non lo so se oh e togliela ok se al massimo è tutto nero ora se al massimo se al massimo ci manca uno lo andremo a prendere a prendere ovviamente e niente bella raga iscrivetevi al canale bella